Grazie a tutti. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Le decennali sono anche l'occasione per ritrovarsi ad ascoltare qualche canto di montagna, qui col coro di Barghie. Dove te metto, mariettina, escivo l'ora in mezzo al pran. Mi me ne vado in campagnola. 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 Mi me vado in campagnola. stamattina in mezzo al pram e scossa il libro già bagnato stamattina in mezzo al pram grazie a tutti